La Corte dei Conti ha parificato l'esercizio contabile della Regione per il 2015, in sostanza ha dato in nulla osta. La magistratura contabile ha rilevato un disavanzo di 7 miliardi e 258 milioni, alcune voci di bilancio non sono state iscritte dove dovrebbero. La Corte ha anche fatto notare che l'indebitamento complessivo con i suoi 5 miliardi e 659 milioni rimane estremamente elevato, pulso in cado rispetto al 2014, però osservato nella relazione il Presidente della Corte Mario Pischedda nel complesso della Regione Piemonte ha avviato i suoi percorsi di recupero e risanamento e quindi il rendiconto generale dell'esercizio 2015 può avere il via libera. È la prima volta che il dato finanziario non viene messo in discussione, ha commentato l'assessore al bilancio Reschigni e questo ci inorgoglisce.